Sono Chiara Badia, lavoro al Gran Sasso Science Institute nel campo della comunicazione scientifica, ufficio stampa e divulgazione, quindi per organizzare tutti gli eventi che in qualche modo portano la scienza a contatto con la società. Ho lavorato nel comitato organizzatore della SIF 2019 e per realizzare questo congresso abbiamo iniziato a mettere giù a tavolino delle idee, degli spunti, già a inizio gennaio 2019. Il comitato, che è composto da 12 persone, 12 colleghi del mondo scientifico, della fisica, ha lavorato in questi mesi per portare ai congressisti un ricco programma, non solo di attività puramente nel campo della fisica, ma anche attività di intrattenimento e attività sociali. Abbiamo infatti realizzato un concerto organizzato con i solisti aquilani che è una nota musicale del territorio ed è stato un po' questo il leitmotiv di tutta l'organizzazione, cioè cercare di sfruttare questa occasione per promuovere anche il territorio, un territorio comunque colpito dal terremoto e in occasione del decennale proprio da quella fatidica data del 2009. Questo legame tra territorio e scienza si è avuto ad esempio con il coinvolgimento di tante istituzioni locali, dagli imprenditori alle aziende che in qualche modo hanno supportato e dato una partnership all'evento, ma anche istituzioni come il Parco Nazionale d'Abruzzo, le associazioni musicali e culturali che in qualche modo hanno contribuito al palinsesto di eventi sociali. Un aneddoto carino è appunto quello anche che si è presentato nella definizione del pacchetto, the gadget, diciamo del pacchetto del congressista quando tra le proposte presentate ha avuto la meglio quella di offrire un pacchettino di zafferano, di navelli, appunto una produzione DOP del territorio aquilano proprio per i congressisti. E questo è un aneddoto carino perché lo zafferano è una spezza molto pregiata, abbiamo comprato tutta la produzione annuale di un piccolo produttore, quindi aiutando anche un po' l'economia locale. Oltre al concerto, i congressisti potranno partecipare anche a proiezioni di documentari e film. Tra questi avremo la proiezione del film In the same boat e la proiezione del documentario Polar Quest, quindi l'avventura nell'oceano artico per la ricerca del dirigibile Italia. Ma altre attività che non sono soltanto riservate a congressisti ma sono aperte a tutta la cittadinanza, alle scuole e alle famiglie, sono state previste all'interno di un programma chiamato Fisi Città che è un insieme di eventi, appunto a ingresso gratuito e rivolti a qualsiasi pubblico, che vedranno l'alternarsi di caccia al tesoro a tema scientifico, realtà virtuali. Avremo anche alcune mostre ospitate appunto al GSSI su materia oscura, su la fisica dell'ambiente polare e tutte queste attività divulgative confluiranno poi nell'ultima sera del congresso nella notte dei ricercatori, dove la città sarà coinvolta in tante attività scientifiche e a cui parteciperanno anche gli stessi congressisti. Il GSSI è una struttura molto giovane e dinamica e da sempre ha avuto come mission principale quella di realizzare tanti eventi aperti alla cittadinanza. I prossimi eventi vedranno protagonista o Kip Thorne, che è premio Nobel per la scoperta delle onde gravitazionali nel 2017 e nonché coautore del film Interstellar che verrà all'Aquila per la prima volta, quindi abbiamo un incontro pubblico dello scienziato con la cittadinanza e poi ovviamente ci dedicheremo a tutte le attività che permetteranno di accogliere i nuovi studenti provenienti da 13 paesi nel mondo qui all'Aquila e che inaugureranno il nuovo anno accademico. Grazie a tutti i nostri spettatori